del valore. Perché cos'è che conferisce valore ad una cosa? La fatica di poterla raggiungere, la fatica impiegata per ottenerla. Nello spazio noi facciamo fatica a raggiungere un posto, attraverso questa fatica raccogliamo un mare di informazioni, le facciamo nostre e quando questo posto finalmente viene raggiunto, caspita se ce lo ricordiamo, perché è tutta la fatica investita che ce lo rende prezioso e nel tempo, nel tempo è la stessa cosa. Sarebbe un problema smarrire il senso dell'attesa, la velocità repentina di poter ottenere una cosa ci toglie l'attesa, in assenza di attesa il desiderato una volta ottenuto non ha quel valore che altrimenti avrebbe avuto se lo avessimo dovuto aspettare.